Buongiorno dall'informazione del mattino di Telemolise, è il 6 agosto giovedì in regia Marco Presutti. Lavoro, sanità, utilizzo delle istituzioni per fini personali e trasparenza amministrativa. La responsabile del Movimento Civico, Adriana Itzi, punta il dito contro le inefficienze della Regione. In proposito dunque sentiamo Giovanni Minicozzi. Ancora qualche giorno di lavoro e i palazzi della politica romana e molisana chiuderanno per ferie, ma secondo molti osservatori la situazione complessiva è sempre più drammatica, sia dal punto di vista occupazionale sia da quello sanitario. Una situazione aggravata negli ultimi mesi da un contesto istituzionale poco trasparente e caratterizzato da strani intrecci tra politiche e affari. Intrecci che, a loro dire, creano vaste zone di ombra e mettono a rebentaglio la trasparenza amministrativa, facendo crollare la fiducia dei cittadini. Mi sembra che una volta tanto il Molise non sia in controtendenza nazionale, perché a livello nazionale, come tutti sappiamo, regna la massima confusione, in Molise pure. E dunque i dati del Molise che sono ancora più pesanti, si pensi alla disoccupazione giovanile che tocca punte inaccettabili, si pensi all'aumento, e sono dati Istat, delle famiglie indigenti, e a tutto quello che fa da corollario a questa situazione. L'economia è allo sbando, la sanità è sotto gli occhi di tutti e al collasso. Ci sono, tra le famiglie che rasentano l'indigenza, io direi di computare anche quelle di tutti gli operatori sanitari precari a cui non è stata possibilità di avere proroga o rinnovo di contratto. Quindi in più i servizi sanitari tutti, nonostante i pagamenti pesanti cui i cittadini molisani sono sottoposti, sono praticamente allo sbando per carenza di personale. Direi il sole è caldo, ma c'è molto freddo nella mente e nel cuore della popolazione molisana. Intanto la Guardia di Finanza avrebbe scoperto delibere di giunta votate dagli assessori, da alcuni assessori via telefono, una sessantina di delibere per un importo di fondi assegnati di svariate decine di milioni di euro. Beh, se questa è una battuta la prendo come tale. Se ci fosse fondamento di verità dovrei dire che mi si gela il sangue perché nonostante il ricorso alla tecnologia avanzata è assolutamente illegittimo ed illecito fare delibere di giunta per telefono. Credo che in fatto di amminità ne circolino tante in questo momento. Per esempio una notizia che più che far ridere faceva piangere letteralmente e faceva vergognare un'intera popolazione è quella riferibile al Consiglio regionale durante il quale il Presidente della Giunta invece che rispondere e spiegare e c'è l'obbligo massimo di trasparenza a questo livello politico di eventi politici perché ci fosse stato un evento dal quale poi è venuta fuori la presunta colpevolezza presunta perché noi siamo legalitari fino in fondo di uno dei membri della Giunta invece che illustrare questa vicenda ha chiamato in causa persone non appartenenti al Consiglio tra cui un magistrato è stato perché questo l'abbiamo sentito ed è verbalizzato un riferimento gravissimo ed improprio ad intercettazioni telefoniche di cui si deve avvalere la magistratura per fare le sue indagini. Peraltro il contenuto delle intercettazioni riportate in aula da Paolo Frattura è risultato inesistente tanto è vero che i protagonisti della vicenda hanno ampiamente denunciato il Presidente della Regione. E adesso la sanità. Una sentenza del Tar Molise emessa il 9 luglio scorso decreta il mantenimento dell'ospedale Vietri di Larino. Il nosoccomio larinese non deve essere smantellato né riconvertito ma gli organi di governo a partire da quelli regionali per arrivare a quelli nazionali ha dichiarato il Comitato Civico Frentano fanno orecchie da mercante persino di fronte a disposizioni giudiziarie. Un Paese il cui governo esige dai propri cittadini il rispetto della legalità e della giustizia ma è poi il primo a non agire nel solco di queste non può dirsi democratico. Su questi temi l'Associazione ha convocato una conferenza stampa per domani alle 11 all'ospedale di Larino. Cambiamo argomento due progetti dell'Università del Molise che coinvolgono atenei italiani e stranieri nella difesa del suolo e del territorio. L'obiettivo è rendere internazionale la cooperazione tra le università. Sentiamo in proposito Giovanni Di Tota. L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus ha finanziato due progetti proposti dall'Università del Molise destinati alla formazione di figure professionali da inserire nel mercato del green jobs e della protezione del territorio. Il progetto INDIRE prevede attività di ricerca e sviluppo per la salvaguardia o il ripristino della qualità ambientale finalizzate a tutelare e a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità. Coordinato dall'Università del Molise coinvolge gli atenei di Cagliari, Lisbona in Portogallo, Sofia in Bulgaria, Malta, il Centro di ricerca nelle scienze botaniche di Varsavia in Polonia e l'Istituto Agronomico di ricerca del Mediterraneo di Creta in Grecia. Il progetto Lookland ha l'obiettivo di internazionalizzare azioni cooperative tra università e attori coinvolti nelle dinamiche di protezione del territorio con particolare attenzione al tema della difesa del suolo e della tutela del paesaggio. Prevede un programma di alta formazione attraverso lo scambio di buone pratiche e la promozione di innovazione e la realizzazione in tre anni di sei summer school, undici seminari e workshop di alta formazione con l'obiettivo di favorire una panoramica più ampia delle tendenze emergenti e aumentare l'internazionalizzazione delle conoscenze nell'ambito della difesa del territorio tra università europee e quelle asiatiche. Al via da stasera l'undicesima edizione del Riccia Folk Festival. Quattro giorni di musica, cultura popolare, seminari e pietanze tipiche riccesi che animeranno il centro della cittadina fino a domenica. Questa sera sul palco del Riccia Folk Festival sarà Giuseppe Spedino Moffa accompagnato dai Bufu di Sepino. Il cantautore recentemente è uscito con un nuovo disco dal titolo terribilmente Demodè che rappresenta un nuovo capitolo nella sua politica e ricca esperienza artistica. Bene, con questa notizia ci fermiamo. Adesso la rassegna stampa. Iniziamo come sempre con il giornale del Molise.it In evidenza, garanzia giovani, Petraroia tace ma dal PD si levano critiche. Vitiello, fare chiarezza subito. Dunque su questa vicenda e sulle irregolarità immerse in relazione ai tirocini extracurriculari interviene Davide Vitiello, responsabile regionale rifare l'Italia del PD. La sua è una presa di posizione chiara e netta. Fare subito chiarezza, dice, a beneficio di tutti. Le altre notizie. San Pietro Avellana ha inaugurato il centro fieristico sportivo. La giudiziaria usura i segni a venerdì l'interrogatorio di Ciampittiello. L'avvocato Milano dice è solo un capro espiatorio. Sistema idrico e fognario. Firmato l'accordo di programma quadro. 45 milioni di euro per interventi su tutto il territorio. Ancora Regione, 130 mila euro per nuovi contributi all'agricoltura. Una vicenda sollevata da Telemolise. Si parla dell'OIACP di Campobasso di alcune case. Entro metà mese risolti i problemi nello stabile di via Quircio. Zuccherificio, settima asta deserta e altra cassa integrazione per i lavoratori. Futuro nero. Anche qui si torna a parlare con un'inchiesta. Garanzia giovani, clientelismo e celtronerie al tempo del centrosinistra. Ecco i nomi e le responsabilità. L'articolo è a firma di Pasquale Di Bello. Lavori sulle strade e disinfestazione a Campobasso. Ancora questione meridionale. Il Molise conferma la tesi di Saviano. Le altre notizie. IKF firmarono l'accordo per il rilancio della Exit TR. Previste 48 assunzioni entro ottobre. E ancora, per quanto riguarda il Consiglio regionale, al posto di Scarabbeo arriva Veneziale, uomo vicino a Leva. Come al solito vi segnalo la sezione editoriali Idee e Opinioni. Le notizie dalla Regione, dall'Italia e dall'estero. La politica regionale in apertura su primo piano Molise. Rimpasto di giunta in Pol Veneziale e Cotugno. La politica va in ferie, ma si lavora per il giro di boa di metà mandato previsto al rientro. Intanto il Movimento 5 Stelle sbotta. Fra arresti e condannati nominati, la Regione è diventata un albergo a porte girevoli. Le notizie sotto la testata. Emergenza personale negli ospedali. 11 medici rinunciano agli incarichi. Solo in due hanno accettato di prestare servizio per tre mesi. La situazione si fa sempre più critica. Posti letto dimezzati alla Cattolica e Neuromed. Ma è giallo sulla bozza svelata dal Ministero. Il direttore generale della Salute è preciso e dice che quei dati sono fermi al 6 luglio. Da allora ci sono state altre tre riunioni. Le notizie a centropagina. La Isernia usura illegali di Ciampittiello. È una persecuzione. Trovato il capro espiatorio. Da martedì agli arresti domiciliari. Il 49enne è difeso dagli avvocati Milano e Messere. Domani in tribunale l'interrogatorio di garanzia. Le notizie sulla spalla da Campobasso. Flop della Turistap lanciata più di un mese fa dal Comune. Dunque non aggiornata scrive Primo Piano. Nemmeno con gli eventi estivi di Campobasso. Ed è costata 5 mila euro. Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per accertamenti al Neuromed di Pozzilli. Stretto riservo sulle sue condizioni di salute. Vediamo le altre notizie. Ci spostiamo a Pesche. Oggi l'assise civica. Prova del 9 per la maggioranza. L'ultima votazione è finita in parità. In basso da Porto Cannone. Allarme bomba. Evacuati Banca e Municipio. Ma era una doppia bufala. Dopo le telefonate anonime. Il sopralluogo dei carabinieri. Buone notizie per quanto riguarda Lagnone. Che esulta in serie di Campobasso. Amichevoli contro San Salvo e Cerce. A Isernia Tuccia rinnova. Nessun accordo. Ci siamo spostati a Termoli. L'associazione Gente di Mare dice no. E parla di gestione non trasparente. Da vasto via verde della costa dei Trabocchi. Pubblicato il bando europeo. Chiudiamo primo piano. Andiamo sul quotidiano. In apertura. Con gli istituti tecnici si riaccende la speranza di trovare lavoro. L'80% degli studenti trova un'occupazione ad un anno dal diploma. In Molise ci sono 20 posti. Ieri la conferenza stampa su questo argomento. In alto fonti energetiche disponibili. Altri 48 milioni su 18 totali. L'annuncio della Presidente Frattura. Questione sanità. Avviso pubblico dell'azienda sanitaria regionale. 11 medici rifiutano l'incarico. Zuccherificio snobbato da tutti. Deserta anche la settima asta. A Campobasso adesso il 12 settembre. Torna vivi la tua città. Dunque torna la festa di fine estate nel capoluogo. La giudiziaria usura. Imprenditore pronto a difendersi. Anche qui la notizia che riguarda l'alarme bomba a Portocannone. Alla sede dell'Unicredit. Per fortuna si è trattato solo di una bufala. Andiamo a Termoli. San Basso il day after tra rifiuti e ultimi superstiti. Indecente lo stato delle spiagge dopo i falò. In Basso serie D. Si parla del Campobasso. Oggi triangolare con San Salvo e Cerce. Lunedì amichevole con Manfredonia. Agnone ripescato. Ora c'è anche l'ufficialità. E parte il ritiro. Paolucci ed Ottavio già da giorni al lavoro. Da Termoli gente di mare dice no. Il modo in cui si vuole cedere non è trasparente. L'Associazione dei Tifosi fa un passo indietro. Si parla anche di ciclismo. La mamma di Pantani. Ospite d'onore. Il 14 agosto a Rocchetta. Chiudiamo. Primo piano. Andiamo sul Free Press. La Gazzetta del Molise. Apertura. Molisani attenti. Ci privatizzano anche l'acqua. L'Oscar viene assegnato oggi a Salvatore Colagiovanni. Mentre il tapiro a Michele Ambrosio. Futuro Molise quotidiano telematico. In alto 11 medici. Risultati idoni all'avviso pubblico dell'Astrem. Rinunciano agli incarichi a tempo. A centro opportunismo made PD. Cosa si c'era nella scelta di Veneziale? Di rinunciare alla prestigiosa poltrona di Fin Molise per il ruolo momentaneo di consigliere regionale. Sulla destra contributi alle imprese agricole. Ulteriori risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la coesione. La ranca dell'efficientamento energetico pubblico. Arrivano altri 14 milioni. Frattura. La dotazione complessiva sarà di 18. Su Futuro Molise. La guida Lucignolo 2015. Piccola guida ai divertimenti dell'estate. Molisana. Scorriamo ancora la OM. Andiamo ad una sezione Ambiente e Territorio. Slittato il vertice TV Consorzio Stampa. Le sei questioni sollevate da consorziati e cittadini comuni al Consorzio di Bonifica di Venafro. La cronaca accoglie al volturno. Incidente sul lavoro. Delle lastre di marmo si sganciano e si rovesciano sulle gambe di un operaio. I quotidiani nazionali. Iniziamo come sempre con il Corriere della Sera. RAI, Patto PD, Forza Italia su Maggioni. La giornalista è la nuova presidente. Pensionati nel CDA, dubbi sulle nomine. Dunque Renzi dice positivo che sia una dipendente. Il Movimento 5 Stelle si astiene. Fico. Aspettiamo prima di giudicare. In alto la cronaca. Il Monte è crollato sulla via di Cortina. Tre turisti in gita, sepolti dal fango. Chiudiamo il Corriere per vedere l'apertura e la prima pagina di Repubblica. Anche qui il grande patto RAI sulla Maggioni. Fisco. Meno manette agli evasori. La giornalista. Presidente dall'orto. Direttore generale. Renzi. Consiglio di amministrazione di professionisti. Ma servivano i voti di tutti. Grande foto per Federica Pellegrini. Dieci anni sul podio. Le lacrime sono d'argento. Poi vedremo sulla Gazzetta dello Sport. La stampa. Analoga apertura. RAI e Maggioni. Il presidente intesa fra Renzi e Berlusconi. Il Premier chiama Silvio. Primo accordo dopo la rottura del Nazareno. A centro pagina. Migranti in mare. La strage continua. Cento morti. Oltre 400 in salvo. Barcone si capovolge davanti alla Libia. Il Fatto Quotidiano titola così oggi in apertura. Il RAI è risorto il Nazareno. E chiaramente si parla del patto del Nazareno. Renzi e Berlusconi pilotano la Maggioni alla presidenza. La spartizione è appena iniziata. In alto sul lavoro. Credete all'Istat. Poletti gioca troppo sui dati. Parla. alleva presidente dell'Istituto di Statistica. Dal Fatto Quotidiano al giornale che parla di una furbata. Expo flop. L'Inps precetta 2 milioni di pensionati. I visitatori latitano e si inventano lo stratagemma per taroccare le presenze. Sulla sinistra RAI la spunta la Maggioni. Ma sui consiglieri è già caos. Nuova presidente. E la Berlin Ware rossica. Ora la prima pagina. L'apertura di Libero. Arriva la legge anti Vitalizi. Tutto questo scrive il giornale di Belpietro. Dopo l'inchiesta appunto di Libero. La proposta di abolizione del privilegio è firmata da 74 deputati, tutti del PD. Il centrodestra ha perso l'occasione per intestarsi un provvedimento che gli elettori vogliono. Speriamo almeno che lo voti quando arriverà in aula. A venire oggi apre con l'altro dramma dell'immigrazione. Si vite sommerse. Si rovescia un barcone con oltre 600 migranti. Recuperati 25 cadaveri. Centinaia i dispersi in mare. Tragico naufragio a largo della Libia. In salvo sulle navi 390 persone. Perego dell'Associazione Migrantes dice Triton passo indietro. Serve più impegno. A centropagina Renzi si accorda Maggioni presidente Rai. Dall'avvenire adesso, da avvenire al tempo di Roma, io ero l'uomo dei maiali, buono per ogni appalto. Si legge questo in alcuni verbali. Buzzi, ras dell'emergenza rifiuti. Anche con Marino risolvevo problemi. Addio ai viaggi gratis degli ex parlamentari. L'inchiesa del tempo e il voto alla Camera. E poi vedete questa grande foto. Roma in ginocchio. Un anziano blocca il bus atteso per un'ora sotto il sole. Chiudiamo il quotidiano romano per andare sul mattino di Napoli. In alto le ultime ore di Luigi interrogato e ucciso dai baby boss. Siamo a Napoli di costruzione shock del delitto nell'autorimessa di via Carbonara. Gli inquirenti, dicono il meccanico, non rivelò informazioni al clan. Pronti a scommettere sul sud? C'è un'intervista del mattino. Parla l'amministratore delegato di Invitalia dopo la scelta come soggetto attuatore. Alcuri, ora velocità e meno burocrazia. Bagnoli, restituiremo bellezza e utilità. Chiudiamo anche il mattino per vedere il secolo. Grande foto di Alemanno. C'è un editoriale di Adele Sirocchi. Buzzi racconta per gli appalti ama o pagato. Ma Alemanno non sapeva. E adesso la gazzetta dello sport. C'è questa bella foto di Federica Pellegrini. Fede eterna. La Pellegrini dunque nei 200 stile libero ha medaglia per il sesto mondiale di fila. Ho pianto di felicità, dice. Intanto Paltrinieri Super sfiora l'impresa negli 800. Sette rosa, rigori fatali e niente finale. Oggi il settebello. In alto il calcio Juve, Stop e Goetz. Morata fermo per un mese. Sabato in Supercoppa di Bala. Mandzukic. Intanto il tedesco punge Guardiola. E Marotta riparte all'assalto. Bene, con la gazzetta concludiamo l'appuntamento del mattino. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona giornata. Vi ricordo alle 14 il telegiornale. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.